Migliorare lo stato d'animo. 10 alimenti. Anche se questi alimenti sono molto utili per migliorare lo stato d'animo, se stiamo seguendo un trattamento per combattere la depressione non dobbiamo abbandonarlo né sostituirlo per il consumo degli stessi. Gli alimenti contengono vitamine, minerali e altri principi nutritivi che posseggono determinare proprietà per la nostra salute. È possibile prevenire e trattare alcuni disturbi aggiungendone alcuni alla nostra dieta. Ecco come, in un modo assolutamente naturale, possiamo migliorare lo stato d'animo e combattere la depressione. In questo articolo condivideremo con voi 10 alimenti che aiutano a migliorare lo stato d'animo in poco tempo. Migliorare lo stato d'animo in modo naturale La depressione è un disturbo complesso e difficili da trattare in modo naturale, in quanto colpisce il sistema nervoso e può provocare diversi sintomi nel nostro organismo. La persona che soffre di questo disturbo vive con negatività e disperazione, cosa che rende più difficile qualsiasi trattamento. Questo perché chi ne soffre di solito è molto pessimista riguardo alle proprie possibilità di guarigione. La tristezza, il disinteresse e la bassa autostima sono caratteristiche frequenti di questa malattia. Tuttavia, combattere la depressione in modo naturale è assolutamente possibile. Possiamo aggiungere la nostra dieta alimenti che contengono principi nutritivi i quali migliorano la funzione nervosa. Essi promuovono processi che aumentano la nostra sensazione di benessere e felicità. Migliorare lo stato d'animo con 10 alimenti 1. Cacao Il cacao è un alimento medicinale ancestrale e sacro in molte culture e possiede numerose proprietà per la salute. Ad esempio, ci aiuta a combattere la depressione grazie al suo contenuto di feniletilammina e triptofano. Queste sostanze aiutano a migliorare lo stato d'animo e aumentano il rilascio di serotonina, un neurotrasmettitore che produce la sensazione di felicità. Non dobbiamo confondere il cacao con il cioccolato. Quest'ultimo è ricco di zuccheri e grassi poco sani e la sua percentuale di cacao è di solito bassa. 2. Arancia Gli agrumi hanno proprietà antidepressive, sia se ne consumiamo il frutto sia se li usiamo sotto forma di profumo. L'uso degli oli essenziali di limone, arancia, mandarino o pompelmo produce una sensazione di allegria che ci invita a portarli spesso sulla pelle. L'arancia è uno dei migliori frutti per aumentare la vitalità e l'ottimismo. È meglio, però, assumerla di mattina, in quanto di sera potrebbe rendere difficile il nostro riposo. 3. Foglie verdi Le verdure a foglia verde sono ricche di magnesio, un minerale fondamentale per riequilibrare il sistema nervoso e combattere disturbi come la depressione o l'ansia. Per godere delle sue proprietà, dobbiamo assumere le foglie crude, in insalate, succhi e frullati verdi. 4. Avocado L'avocado è considerato un superalimento. Questo frutto è talmente completo di principi nutritivi che è la migliore scelta per trattare qualsiasi disturbo, incluso la depressione. Sebbene sia ricco di grassi, contiene anche proteine e fibre, pertanto non dobbiamo avere paura di ingrassare. 5. Noci Le noci sono eccellenti per migliorare lo stato d'animo grazie al loro contenuto di vitamine, minerali come il magnesio e acidi grassi essenziali. Sarà sufficiente consumare un pugno di noci per mantenere in equilibrio il sistema nervoso, inoltre, questo farà bene anche alla salute del cuore. 6. Lino Il lino, che possiamo assumere sotto forma di olio o semi, è un alimento molto nutritivo e ricco di acidi grassi essenziali omega 3. Questo tipo di grasso è fondamentale per le persone che hanno bisogno di raggiungere la stabilità emotiva e migliorare la salute in generale. Se optiamo per l'olio di lino, dobbiamo assicurarci che sia stato spremuto a freddo affinché mantenga le sue proprietà intatte. 7. Uova Le uova sono un alimento molto completo che possiamo mangiare tutti i giorni. Sono ricche di vitamina B12, un principio nutritivo presente anche nelle sarde e nei latticini. I bassi livelli delle vitamine appartenenti al gruppo B, in particolare quello della B12, sono relazionati alla depressione. 8. Fagioli In alcuni paesi i fagioli costituiscono la base della dieta, il che è un'ottima abitudine per combattere la depressione. Questo alimento è ricco di tiamina o vitamina B1, che fornisce energia alle cellule cerebrali e favorisce la funzione cognitiva. Ciò si ripercuote in maniera positiva della lotta contro la depressione. 9. Crescione I folati presenti nel crescione contribuiscono a detenere il deterioramento cognitivo e prevengono gli stati depressivi in modo naturale. Possiamo aggiungerlo alle insalate come decorazione per qualsiasi tipo di piatto. 10. Semi di girasole Esattamente come i fagioli, i semi di girasole sono ricchi di vitamine del gruppo B come la tiamina. Per questo motivo, è utile assumerli giornalmente, crudi o tostati, per migliorare lo stato d'animo.